Ariella Castello a Casoli dall'8 al 10 agosto, dettagli programma su casoli.gov.it e facebook.com slash comune di Casoli Buonasera, benvenuti e ben ritrovati alla quinta edizione di Ariella Castello, festival d'Annunziano a cura del comune di Casoli e assessorato alla cultura andiamo avanti con due autrici Giulia Alberico, nata a San Vito Chietino, insegnante di lettere per oltre 30 anni, vive a Roma ha scritto tra gli altri i romanzi Il Gioco della Sorte, Come Sherazad, Il Vento Caldo del Garbino, Un Amore Sbagliato e Grazia, edito da Sam con il volume di racconti Madrigale, ha vinto il premio Arturo Loria Maristella Lippolis vive a Pescara, vincitrice del premio Piero Chiara 1999, con la raccolta La storia di un'altra in seguito ha pubblicato i romanzi ad Ele, né bella né brutta finalista del premio Stresa 2008, Una furtiva lacrima, Raccontami tu e non ci salveranno i melograni, edito Taglianieri collabora con la rivista leggendaria il Literate Magazine e il Magfest due autrici a confronto Giulia Alberico e Maristella Lippol Va bene, allora buonasera, grazie a tutti e a tutte per essere qui e come avrete capito insomma da questa presentazione sarà un dialogo tra me e Giulia Alberico che abbracerà un po', poi vediamo insomma se ci riusciamo ma abbracerà un po' le nostre scritture, quello che abbiamo fatto finora, i nostri libri quindi le protagoniste dei nostri romanzi, perché entrambe scriviamo romanzi dico le protagoniste perché sono le donne essenzialmente, le protagoniste prevalentemente dei nostri romanzi sono donne tutto sommato comuni donne normali, che hanno delle vite in cui accadono cose che accadono tutti i giorni a tanti di noi, un pezzetto, non tutta quella storia magari ma qualche pezzetto sicuramente a tante di voi che siete qui è capitato, o sta capitando o capiterà sono storie che parlano di sentimenti di problemi tra madre e figlie di amori di delusioni, di speranze di forza, di riscatti di scelte insomma sono questi un po' i temi i temi clou di quello che entrambe, forse ci siamo simpatiche perché abbiamo un po' le stesse come dire, no? lo stesso imprinting rispetto rispetto alla scrittura e forse devi premere un bottoncino no, si sente si sente si sente? si sente si sente dunque noi ci siamo conosciuti qualche anno fa però ci siamo piaciuti perché come dice mia nonna diceva la simpatia è come un accidente è una roba che capita insomma ci siamo lette reciprocamente e devo dire che è uno di quei casi in cui piuttosto diffusi in cui non c'è rivalità perché poi il rapporto tra donne è anche quello un aspetto di cui abbiamo parlato nei nostri libri ogni tanto come dire il famoso discorso non siamo sorelle ci vogliamo bene le donne il femminile non è neppure vero insomma a volte tra donne ci possono essere delle sotterranee condizioni di tensione o altro e ci piace scrivere storie ci siamo incontrate conosciute adesso siamo una specie di compagnia di giro per cui se ci invitano noi andiamo dove che ci invitano infatti grazie grazie a Casoli questa serata in un posto bellissimo e tra l'altro con Eleonora che abbiamo ascoltato prima abbiamo scoperto in tre secondi con la capacità che hanno le donne al link di avere in comune un sacco di cose di luoghi di persone perché poi il mondo è tondo insomma alla fine ecco e noi abbiamo così scritto delle storie io ho conosciuto Maristella attraverso un suo primo libro una furtiva lacrima la protagonista è un'ottantenne una donna un po' svanita ma che poi in realtà non lo è per cui a brandelli vengono fuori i ricordi vive con una badante un rapporto di tensione insomma è un libro tutto al femminile io ne ho scritto un altro tanti alcuni anni fa dove mi sono coinventata tre giorni di garbino non so se sapete il garbino quel vento dovevo perché mi hanno cambiato il titolo nella casa editrice perché diceva il garbino cos'è la casa editrice era a Milano insomma il garbino e allora un condominio tutto di donne con un solo maschio un ammiraglio in pensione che era poi tra l'altro il mio preferito e mi è dispiaciuto lasciarlo però con una dimensione molto femminile perché poi anche gli uomini ci sono i maschi nei nostri libri e niente ecco quindi ci piace scrivere però soprattutto credo ci piace leggere perché la lettura e la scrittura sono i due versanti molto uniti una specie di duale insomma ma certo non si può scrivere se non si legge è assolutamente impossibile però chi lo fa lo fa sul rischio e pericolo evidentemente Eleonora diceva una cosa prima che ero arrivata nel momento in cui stava già parlando che la parola come hai detto è un'arma un'arma di istruzione di massa è un'arma di istruzione ecco la parola la densità della parola e tu capisci se una persona perché poi voglio dire inventare le storie insomma non dico siamo buoni tutti ma quasi il problema è scriverle e lo scrittore è tutto nella sua scrittura senza presunzione livelli diversi ma un aggettivo giusto al posto giusto messo prima della parola o dopo come dire cambia il ritmo della frase quindi abbiamo anche l'orgoglio luciferino di essere molto attenti a come scriviamo sì io ho in mente non ho capito bene che cosa ne pensi tu che io introduca questa questione però io ho in mente l'ultimo tuo romanzo che mi è piaciuto moltissimo si intitola Grazia è ambientato qui tra l'altro in queste zone in Abruzzo perché la protagonista vive qui ha vissuto gran parte della sua vita qui in questo romanzo c'è un condensato secondo me delle tue abilità di scrittrice perché c'è una messa in scena di sentimenti femminili molto forti come il rapporto madre figlia per esempio come il conflitto madre figlia come come posso dire senza dire delle cose pesanti come una certa modalità che a volte abbiamo incontrato dell'essere madre no la rigidità improntata alla rigidità a una certa rancorosità nei confronti della figlia a una pretesa e di conseguenza ad un atteggiamento speculare no di una figlia che non che vive con come dire con disagio insomma il rapporto con una madre apparentemente inaffettiva o comunque inaffettiva e comunque autoritaria ha delle connotazioni molto interessanti anche per la modalità con cui tu scrivi perché ci sono salti di tempo comincia il presente comincia l'oggi comincia quando la figlia viene la figlia di questa donna che si chiama Grazia viene a sapere che la madre è morta la figlia vive a Roma le telefonano la madre viveva qui a Ortona a San Vito mi sembra a Ortona però si intuisce che Ortona da alcuni riferimenti esatto esatto e c'è e ci sono qui c'è questa capacità insomma di saltare nel tempo e quindi di far arrivare avvenimenti che sono accaduti prima della guerra durante la guerra subito dopo la guerra e poi l'oggi e poi di nuovo il passato e poi l'oggi e con una suspense io dico sempre che le migliori suspense non sono quelle dei gialli in cui c'è un assassino e qualcuno che deve scoprire chi ha ammazzato chi ma sono le suspense che accadono nella vita perché nelle nostre vite ci sono misteri che alleggiano che nessuno magari scoprirà mai ma che condizionano le vite di tante persone e qui è così cioè un mistero un mistero che la figlia di questa donna che si chiama Grazia la figlia si chiama Teresa scoprirà guardando le fotografie indagando e scoprirà finalmente chi era la madre scoprirà il segreto della madre che noi adesso non svegliamo perché è bene che ve lo leggiate nel romanzo però insomma è una scrittura molto molto densa molto molto pregnante e poi scusa poi interrompo poi dopo mi fermo e poi c'è questo contesto storico perché tu sei capace di tratteggiare anche gli ambienti che diventano protagonisti perché lì tu parli di vicende accadute insomma tratteggi prima della guerra quindi il fascismo quella piccola società di provincia che in qualche modo accondiscende che vive nelle pieghe di quella di quella situazione storica che poi la guerra e poi dopo insomma ci sono delle ambientazioni che tu dipingi con molta veridicità e con molta profondità io ti ringrazio è un libro abbastanza breve ma mi è costato tanto in ricerca perché io ero forse anche un po' un aspetto professionale perché ho insegnato storia per tanti anni a scuola e come dire ancora sui manuali c'è la si parla della fuga del re da Pescara il re non è mai fuggito da Pescara è salpato da Ortona quindi qui c'era la linea Gustav insomma ci sono state tantissime cose e quindi ho cercato ricostruito un po' però la grande storia e le storie si intrecciano anche nel libro suo adesso tanto per parlare dei nostri due ultimi lavori il suo più recente questo non ci salveranno i melograni io continuo a dire che è un titolo bellissimo che mi fa pensare al principe Mishkin la bellezza ci salverà non lo so se ci salverà la bellezza noi tutti oppure qui i melograni no ecco è la storia di Laura che è una quarantenne avvocato di una città della costa adriatica che va in Croazia a fare un viaggio di piacere insomma un'estate bisogna stare da sola e va in un'isola e si ferma conosce ma ci sono vari incontri e alla fine non alla fine alla fine dell'estate decide di non tornare indietro e di restare in qualche modo ha trovato anche un maternage in una donna del posto non si capiscono hanno due lingue diverse ma si intendono e anche lì poi pure pure te tema della madre della maternità torna forse insomma non è che siamo molto originali ma credo sia uno dei nodi del femminile anche no questo dell'essere figlia o essere madre e non essere sufficientemente buone madri o buone figlie e questa donna si ferma e scoppiano le guerre di Jugoslavia noi siamo nel 91 quindi c'è tutto uno sfondo di primi eventi di quelli che poi saranno tragicamente più forti e insistenti tra l'altro Maria Stella ha avuto dei rapporti proprio con gruppi di donne esuli che hanno trovato poi riparo all'estero insomma poi la strage di voi tutto quello che sappiamo Sabrenica tutto quello è stata la pulizia etnica più pesante degli ultimi anni insomma del secolo scorso ecco io trovo che la grande storia sia sempre un po' in trama non filigrana dietro dietro molti nostri lavori tutto sommato perché poi i personaggi vivono in quelle città lì in quei momenti lì e quindi le cose io non so oggi come collocherei non so dirlo insomma e il discorso della scrittura comunque non è solo avere l'idea e è anche un paziente lavoro secondo me io almeno lo vivo così di falegnameria bisogna essere degli artigiani molto seri cioè scomporre levigare allora lei diceva del tempo io non riesco per esempio ad avere la sua compattezza di scrittura lei è una scrittura compatta con un andamento logico e cronologico ed è molto padrona delle tecniche perché è un libro il suo che si compone di vari capitoli alcuni in prima persona altri in terza poi ci sono delle lettere delle pagine di diario i punti di vista divergono c'è un punto di vista esterno interno dell'altro personaggio che entra e e questa è una è un è capa insomma voglio dire nessuno pensa che lo scrittore all'ino all'ampo è un lavoro di da mosaico io non riesco ad avere questo tipo di compattezza mi riesce di più rompere il tempo e quindi andare indietro avanti che è un po' come dire funzionale poi magari alla storia nel caso specifico grazie che dà il titolo al libro non c'è nel libro cioè il libro si apre con questa che è morta però in realtà sta dappertutto fino alla fine ed è il racconto di una possibile riparazione che la figlia riesce forse a raggiungere quando non può più peraltro celebrarla con la madre reale però è un problema appunto interno però tornavo a dire le storie sì ma la e bisogna dare secondo me anche ascolto a se stessi io avevo un'amica molto molto più grande di me una donna suso cecchi d'amico che ho conosciuto per caso una donna di raro garbo e mi diceva Giulia rileggi ad alta voce rileggi ad alta voce e senti se se il ritmo tiene no era ragione conosciuta per caso voglio dire quelle cose e e hai ragione è una operazione da fare lei doveva per sceneggiature vi ricordo creare non so quale film e avesse abbonata alla rivista il carabiniere anche io non la trovavo lo trovavo dice no perché io non posso far parlare un carabiniere così come poi parla non so la professoressa anziché quindi c'è anche un una fatica nel un lavoro nel lessico nel linguaggio ecco lei è molto brava io vi invito a leggere chi l'ha letto noi ci siamo incontrate a Roma abbiamo fatto una presentazione è piaciuto tantissimo un libro molto bello ha pochi dialoghi e riuscire a reggere a lungo senza dialoghi non è una cosa facile stavo facendo un sacco di complimenti a vicenda ma sono due bei libri questi qui veramente belli e anche altri insomma io sono molto curiosa di leggere quello di Eleonora e di rincontrarla mi è piaciuto sentire prima basta pochissimo per avere un'empatia sono arrivata tardi c'era una persona una giornalista che leggeva un suo passo e lei ha usato un aggettivo cotonato è una cosa cioè è dico quella è ci sta cioè è una ripeto l'aggettivo al passo quella sera a San Vito che dicevamo di quella cosa di Leopardi ti ricordi? quasi dicevamo non ricordo dicevamo una cosa qui allora io devo dire che questa è una serata bellissima che non c'è vento si prevede bel tempo anche domani allora un colonnello alla televisione direbbe è una serata si prevedono serate tranquille l'anticiclone le ciclone eccetera c'è delle azorre poi là sarà tranquillo un banditore nel 600 avrebbe detto dormite sono tranquilli qui la serata dice poi questa è una roba che poi vi dico l'ho rubata a Bufalino in un'intervista lo dice Gesualdo Bufalino dice poi c'è un ragazzo che ha recanato si affaccia al balcone e scrive dolce e chiara è la notte senza vento hanno detto tutti e tre la stessa cosa ma se solo avesse spostato un aggettivo hanno detto la stessa cosa dolce e chiara è la notte e senza vento è questa la scrittura il dono la magia la fatica forse si si beh è proprio così non so quanto al pubblico interessa insomma questo nostro lavoro di retro cucci di retro bottega ecco perché è così noi certo siamo abituati noi anche come lettrici leggiamo un prodotto finito e non non ci chiediamo noi forse che siamo un po' più del mestiere ce lo chiediamo che cosa c'è dietro che tipo di lavoro però il lavoro che c'è almeno per quello che mi riguarda anche per quello che sta dicendo Giulia di se stessa è tanto io poi tra l'altro ho un metodo mio nel senso che se non sono soddisfatta della pagina numero 5 non riesco a scrivere la pagina numero 6 qualcuno mi dice ma no vai avanti poi dopo vedrai no per me deve essere perfetta fin dall'inizio da subito e però questo significa che su una pagina ci ritorno dieci volte perché quel famoso aggettivo di cui parlavi tu non va bene te lo devi risuonare dolce non va bene allora che cosa ci metto al posto di dolce ma non è una ricerca meccanica è che è proprio un problema di come suona insomma di come ti suona e questo è un lavoro appunto di retro bottega che però come dire fa sì che la pagina sia compiuta in tutti in tutti i modi da tutti i punti di vista perché appunto non è soltanto una storia che si intreccia dove in cui accadono accadono delle cose ma deve risuonare deve essere ricordata in qualche modo perché se no insomma perché si scrive se no scriveremo dei saggi se io no avessi voluto raccontare semplicemente la guerra nei Balcani avrei scritto un saggetto senza esserne capace peraltro e invece mi sono inventata una storia ma inventandoti una storia deve essere una storia vera cioè deve prendere il lettore e per prendere il lettore occorrono tanti ingredienti occorre sì la trama ma occorre una scrittura che si faccia ricordare che ti colpisca perché se no non sei un contastorie stasera stasera avevamo così dato questa idea delle donne lettura scrittura non c'è nulla di non c'è separatismo ma è un dato di fatto le donne leggono di più percentualmente io ho un gruppo di lettura vivo a Roma da tanti anni io sono nata a San Vito torno d'estate tutti gli anni però vivo da 52 anni a Roma e questo gruppo di lettura appunto da 12 anni ci incontriamo ogni mese un gruppo che non è nato a femminile ma di fatto così è e poi è chiaro che abbiamo scambi con amici lettori insomma però c'è un discorso che intanto non so perché io non siamo come dire sociologi però credo che ci sia una ci siano degli elementi che legano le donne alla alla parola al fascino della parola scritta da scrivere e da leggere fondo la parola testo il testo viene da textus latino che vuol dire tessere e la tessitura è un lavoro delle donne nei ricordi io credo almeno per me ma ho sondato in altri la voce che raccontava quando si era piccola potrebbe essere una nonna una mamma però una voce che racconta credo che sia le origini di di tanti di noi nel rapporto con la narrazione no una parola che adesso usano moltissimo politici la narrare sentire raccontare una storia ed è una voce che racconta quindi non io un anno avevo una sesta ora terribile con gli alunni e decisi che avrei letto ad alta voce e loro erano grandi non parlo del superiore qualcuno mi diceva mi posso appoggiare con la testa e io sceglievo dei racconti molto brevi e molto anche che potessi concludere ed era l'ora del racconto secondo me si creava nell'aula una situazione di regressione con la scuola allo stadio sì che è che è uno stadio che non piace sentir raccontare ma quale bambino non piace sentir raccontare e lì nasce poi un amore per la per l'ascolto per la lettura l'oralità all'inizio e poi magari se si coltiva e in genere è un qualche cosa che sta nell'ambito femminile anche se io ho avuto zio Rodolfo che mi raccontava delle cose meravigliose dell'Etiopia dove era stato prigioniero e credo che si accendessero così tante mie geografie mentale insomma quindi per carità però è una dimensione più praticata no? sì ma poi ci sono insomma anche le statistiche no? sulla sulla lettura in Italia e adesso non ricordo la cifra precisa però è una stragrande preponderanza femminile tra chi acquista i libri e chi rilegge andando in giro per l'Italia ormai insomma mi sono fatta una lunga esperienza in questi anni mi capita spesso di andare in librerie dove ci sono gruppi di lettura ma sono quasi tutti composti da donne mi dispiace anche non è che questo mi renda particolarmente soddisfatta perché secondo me è un guadagno in più che si ha nella vita non soltanto nel leggere ma anche nello scambiare esperienze di lettura perché quando si parla dei libri che si stanno leggendo che si sono letti e che abbiamo amato che stiamo amando in realtà si parla di noi in realtà è un'attività introspettiva perché dice Re Calcati è il libro che ti legge non sei tu che leggi il libro perché ognuno legge il libro come in quel momento ha bisogno di leggerlo e capisce quello che in quel momento ha bisogno di sentirsi dire e quindi in questo senso è il libro che ti legge e quindi insomma è l'attività di lettura è una lettività di poi alla fine di introspezione quindi ci sono gli editori ci sono gli editori ma perché le posizioni di potere in genere ce l'hanno gli uomini quindi editare i libri comunque è una posizione di potere poi può discutere in casi specifici però però è così e quindi sì insomma c'è questo circolo di parole ecco a me per esempio piace molto incontrare le scrittrici da lettrice mi è sempre mi è sempre piaciuto molto perché ho sempre immaginato dietro ho sempre cercato di capire che cosa che pensiero ci fosse al di là di quello che veniva potevamo leggere sulla pagina per cui ho avuto insomma incontri nella mia vita bellissimi con tantissime scrittrici importanti questo è vero ma posso c'è una scrittrice che io amo molto che si chiama Margaret Atwood in un no è tanto in comune però lei ha messo insieme in un libro che non si trova più di Ponte alle Grazie che si chiama negoziando con le ombre sono delle lezioni che le ha tenute in un'università americana e a un certo punto dice che queste che i lettori che vogliono incontrare l'autore dice una cosa terribile è come chiama il patè e poi vuole incontrare l'oca io devo dire che l'incontro con l'autore può essere anche può essere deludente per la persona oppure l'idea che uno abbia travasato nelle cose che scrive le vicende solo personali magari allargate insomma anche quello a volte devi stare a spiegare c'era una vecchia cameriera di San Vito che una volta mi ha detto è bello quel libro sentito che hai scritto di quando tua madre ha messo le corna a tuo padre io insomma voglio dire francamente uno pure un attimo per carità e Serena l'ho perdonata però e a volte ti trovi anche con delle persone non come Serena che però ti dicono ma quella certo tua madre vabbè se uno avesse la possibilità di vivere tutte le vite che gli vengono in mente delle storie che racconta carità sarebbe un miracolo bene tutto qui quindi condividiamo anche l'amore per madre Galetato io però quando è venuta a Roma a fare un tour insomma in Italia ho fatto la fila fuori come un adolescente che stava andando a cercare l'autografo dei Beatles nei miei tempi perché la dovevo assolutamente vedere dal vivo e ci sono fatto la fila poi ho presentato il mio libro lei mi ha messo l'autografo io l'ho guardata con aria smarrita e le ho detto solo thank you avrei voluto farlo no take it for your writing mi sentivo veramente molto molto emozionata la stessa cosa ho fatto con Doris Lessing dove mi sono raccomandata la vigilanza del massenso però lei è una molto impegnata al contrario di me no 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 è una femminista ma di quelle proprio anche come dire militante insomma non nel senso vieco del termine però molto molto impegnata io sono dico sempre una massaglia rurale prestata alle lettere no no davvero io ho una mi piace incontrare le persone ma sono più schiva lei è bella tosta insomma va ai convegni fa le cose e come dire però magari chiedeteci delle cose voi o diteci sappiamo più cosa dire è vero che la narrazione è prevalentemente femminile ma i premi letterari li vincono gli uomini abbiamo avuto soltanto appunto tre strega femmini dai vi passate il microfono no ma no era solo una considerazione no è un'osservazione sul soffitto di cristallo era la conclusione di quello che stavo dicendo no no perché parliamo te l'avevo detto no ma lei diceva anche intanto vabbè ritengo che ci sia una discriminazione nei confronti delle donne che poi è stata confermata da questo strega non ne parliamo perché anche nell'ultimo strega c'erano due romanzi femminili che erano nettamente ehm superiori secondo me non solo secondo me anche premiabili ma poi la percentuale nel mondo ma soprattutto in Italia in Italia di vincita di premi ehm assolutamente solo sul maschile per quanto riguarda la narrativa cosiddetta alta diciamo quindi ehm nonostante noi abbiamo lo gioccolo duro di lettori di lettora e nonostante siamo anche più prolifiche come scrittura nonostante questo comunque tendono gli uomini a relegarci o a relegarci nel nei generi quindi la la ciclite il romance eccetera oppure a a premiarsi poi sempre tra di loro beh ma è una realtà ehm molto italiana ehm diciamo credo non so però Francia e Spagna già la Spagna sta molto più avanti di noi da questo punto di vista anche come editoria proprio in Italia insomma penso che vabbè sarebbe un discorso troppo però fare l'editore il piccolo editore indipendente chiede un grande coraggio insomma è eroico è eroico sì e anche ehm scrivere delle buone storie con una buona scrittura eh se tu come dicono a Roma non ti fai un mazzo tanto non arrivi più di tanto nonostante possa come dire lo fai con convinzione vai incontri le persone si crea un feeling però poi i giochi sono fatti da da altri altrove no? e io non so ho letto le cose del premio strega io come gruppo di lettura abbiamo letto sia la Durastanti che Terranova che abbiamo avuto ospiti anche a Roma però quello dello strega vabbè è un calzo ma il premio più importante però certo si sa che è un po' così ecco tu lavori in una casa editrice quindi ci potresti anche forse dire la tua su quelle che possono essere le politiche editoriali certamente oggi un libro non entra nella a parte che c'è un declino verticale della lettura cioè il forte lettore è chi legge un libro al mese 12 libri l'anno ma insomma che ritengo sì veramente e poi e poi se non nelle top sono sempre poi gli stessi nomi quindi il giallo tira molto come c'è stato il periodo della cucina tutte cose con i cini insomma a un certo punto in Italia ci sono anche delle modi dico in Italia perché mi pare che tra Germania e Francia sia diverso leggiamo nel gruppo non io personalmente ma anche in lingua molte persone quindi non so io ho letto un librino di recente di Ursweil di Keller editore che è un piccolissimo editore il più grande amore di mia madre delizioso cento pagine non di più ma se quello vende mille copie deve essere ma l'avevo forse non so le raccette le raccette le raccette sono tante oramai si va a cedere perché perché poi appunto questo deve vincere un premio deve vincere un premio e Eleonora no volevo dire lo dicevo prima siamo siamo arrivati a 80.000 pubblicazioni all'anno e siamo e siamo scesi come media no eravamo come media un libro all'anno in Italia adesso siamo scesi quest'anno a mezzo libro quindi dico aumentano le pubblicazioni e diminuiscono i lettori quindi il marketing è totalmente deformato e anche riguardo le scelte editoriali adesso si fa un tipo di scouting un po' particolare si va a cercare il VIP a cui si 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 quindi è un mercato viziato come rimane per me una cosa ormai amatoriale no si scrive solo per la passione no ormai per la passione per la e per l'amore gli lettori insomma quando c'è l'incontro poi con gli lettori è una cosa molto molto emozionante quello che torna indietro è come dire quando si va a cinema e si vede un film insieme come sognare insieme come trovare riscontro su delle pagine che uno ha scritto è una nozione insomma sicuramente io voglio leggere un pezzo duro facciamo qualche salto e poi siccome io ho dimenticato di avere un mio libro se ne prestate una copia di grazie e poi vorrei leggere l'incipitazione no non lo so leggere no ce l'avete grazie si ce l'ho presta l'editore però sono con ho una tale fiducia in me stessa che non si si ecco vedi che l'avevo segnato no non molto perché se no ci si annoia nel suo libro il suo libro ha una secondo me una trama sonora molto forte comincia con questo canto delle diomedee che sono questi uccelli marini che stanno da queste parti verso le tremete e poi c'è a un certo punto la comparsita e poi ci sono i rumori della risacca del marzo è pieno di suoni questo suo libro e Laura sta andando verso quest'isola su una barca chi so se ragazzini terrificante eccole Laura sulla barca c'è una coppia di ragazzi si stanno avvicinando all'isola e eccole te l'avevo detto che da qui forse le avremmo sentite le diomedee e allora Laura ritrovò nella memoria la leggenda dell'eroe greco che di ritorno dalla guerra di Troia morì in qualche angolo di quel mare e fu sepolto in una delle sue tante isole mentre gli dei trasformarono i suoi compagni in uccelli marini messi lì a vegliare e piangere la sua sepoltura diomede e le sue diomedee siamo stati fortunati questo canto si sente in pochi posti qui nell'Adriatico Laura non era sicura che si trattasse di fortuna quel lamento non somigliava per nulla all'idea che lei aveva di cosa fosse un canto d'uccelli persino le grida dei gabbiani le sembravano più armoniose e rassicurante quello era un urlo di dolore un pianto che non trova consolazione ecco a me sembra che questa barca che sta portando se permetti guarda perché se no mi leggi troppo no no me lo leggo io un pezzettino per farvi capire di questa signora grazia defunta no faccio vado già dalle scale un lieve sentore di Mitsuko parlava di grazia era stato sempre il suo profumo per decenni e in paese chiunque poteva sapere se era appena passata in banca o all'ufficio postale nella cappellina di San Sebastiano o in tintoria perché la fragranza leggiava nell'aria per diversi minuti dopo che lei se n'era andata le Kenzie sull'ampio pianerottolo facevano tanto casa gattopardesca affiancavano un piccolo divano tonè a due posti che permetteva di fare una breve sosta dopo la rampa di scale prima di entrare nell'appartamento da dove porta d'ingresso aperta giungevano un brusio indistinto e un tramestio di passi segno di presenze numerose tutte a condolersi per la morte di donna Grazia sono due incipiti di due storie sì bene io ho un po' raccontato di che storia si tratta Grazia diciamo poche parole su di che storia si tratta non ci salveranno i melograni ma posso dirlo anch'io tu accennavi alla protagonista che è Laura una giovane donna che arriva su quest'isola della Croazia in cerca di solitudine e di pace incontra una donna che l'accoglie si stabilisce nella sua casa perché vuole stare lì ancora del tempo con questa donna non c'è possibilità di dialogo ma c'è una grande voglia di capirsi su quest'isola incontrerà anche Goran cioè il figlio di Vera e scoprirà la realtà di quello che sta accadendo in quelle ore in quei giorni sulle coste in quella che poi siamo stati abituati a chiamare la ex Jugoslavia e cioè questo conflitto terribile che ha diviso case famiglie pezzi di paesi confini ridisegnando geografie reali di terra ma anche geografie dei sentimenti delle vite delle vite delle persone entrambi sia Laura che Goran devono prendere una decisione rispetto alla propria la propria vita come proseguirla a cosa fare entrambi sentono di avere delle responsabilità nei confronti non soltanto di se stessi ma della realtà in cui vivono dopo questo breve fugace ma molto intenso incontro ognuno prenderà la propria la propria decisione seguirà la propria la propria strada io avevo preso un appunto dicevo decisione di partire o restare che cos'è la casa tra virgolette perché questa donna Laura si sente a casa in un paese non suo e con una lingua che non non intende o per lo meno per grossi per grosse linee è un luogo di pace però è una pace apparente quindi c'è questa dimensione edenica del luogo e contemporaneamente tutto un brulicare sotterraneo che lei non percepisce Gorham che gliele deve spiegare poi a parte vedrà sentirà delle bombe insomma a un certo punto però è una è uno simero questo posto è un luogo di 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 una finta pace e dovranno decidere di sé della loro breve relazione di un'intensità incredibile e soprattutto lei deve decidere se tornare o restare lì e naturalmente diciamo che succede se non ci sono delle domande voglio chiudere però con una cosa non lo so editore di Anieri se la posso dire questa cosa posso svelare questo fa a un certo punto il mio editore mi dice ma è strana sta succedendo una cosa strana la Varese continuano ad arrivare ordini di questo di questo tuo libro 20 poi 10 poi in altri 10 ma dico io lui ha pensato forse a qualche errore sai hanno ordinato più persone alla fine gli ho detto vabbè chiamali di questa libreria che non nominiamo di Varese e chiedigli che sta succedendo perché siamo arrivati a 60 alla 60esima copia ordinata abbiamo cominciato a preoccuparci e quindi 80 è la miseria allora abbiamo scoperto una cosa molto bella che è vicino insomma è in sintonia con quello di cui parlavamo prima perché lì c'è un gruppo di lettura in questa libreria e scelgono un libro e hanno scelto il mio ma non solo lo hanno scelto ma lo hanno consigliato come libro per l'estate per cui tutti i clienti di questa di questa libreria di Varese stanno comprando molto disciplinati poi tra l'altro perché insomma 80 lettori di una libreria che scelgono di leggere tutti quanti lo stesso libro è una cosa che a me veramente non è mai successa ecco pure scrivendo libri e andando in giro loro dicono che qualcuno si ricordava di me perché io il premio Piero Chiara si era tenuto a Varese quindi lì ho fatto incontri ho parlato con gente però insomma sono pure basati un po' di anni quindi però evidentemente qualcosa no questo insomma devo dire che mi ha riempito anche di commozione perché no perché insomma ecco un attaccamento intanto nel ricordo un attaccamento insomma di questo genere alla lettura è una cosa che mi ha molto che mi ha molto colpita andrò a presentarlo a conoscere tutta questa gente ovviamente a fine a fine a fine non me lo ricordo a fine settembre e e quindi insomma accadono anche delle cose belle insomma no in questi i gruppi di lettura funzionano anche nelle scuole se un insegnante motivato riesce a giocare con un numero di copie insomma incontrare per lavorare i ragazzi no i gruppi di lettura funzionano e ce ne sono tante stanno nascendo sempre più in librerie o anche in case private almeno a Roma ce ne sono tantissimi e devo dire che poi certo non faranno numero per le top ten perché è difficile poi che un gruppo di lettura scelga un libro che è nelle classifiche ma non però è proprio come dire ci si affeziona un autore a un genere oppure si decide di tornare adesso io sono sicura che a settembre siccome è mancata da poco Toni Morrison che insomma è una grande donna e grande scrittrice io credo che rileggeremo sono rischizzate le vendite di Amatiss due giorni sono rischi mi manca però insomma credo noi avevamo letto il dono di lei che è uno dei più difficili Sula l'occhio più azzurro però torneremo sono certo è successo anche per Rotto insomma oppure ecco qualcuno ha letto una cosa che magari di una piccola casa insomma editrice e sono spesso queste situazioni di nicchia ecco proporrò sicuramente noi a Roma ci siamo già incontrate in una libreria parlo di un'altra non ci salveranno i melograni allora qui stiamo concludendo dicendo che pensavamo che ci salverà la bellezza non si sa ci salveranno i melograni non si sa lì c'è qualche dubbio sul fatto che i melograni ci possano salvare poi insomma lo lasciamo alla curiosità delle lettrici e dei lettori però i libri forse ci salveranno almeno questo lo possiamo no lo possiamo sperare almeno ecco almeno almeno ci salveremo in proprio perché il momento è cruciale il momento della nazione cruciale da 48 ore speriamo che ci salvi almeno la lettura e speriamo che leggiamo di più anche e beh appunto in quel senso lì grazie siete stati come dire molto molto carini grazie allora ringraziamo Giulia Alberico e Maristella Lipporis ecco i libri i libri del festival li potete trovare alla vostra destra presso il Mondadori Point e a me saluti finali la seconda giornata del festival d'Annunziano oggi è al termine il festival lascia piazza Santa Reparata e si trasferisce nelle sale del castello non a casa si si trasferisce nelle sale del castello ducale e l'appuntamento è appunto per domani sera alle ore 19 con Vittoria Jacovella e alle ore 21 con il concerto di Alexander Romanoschi io prima di salutarvi faccio i consueti saluti ai nostri partner partner istituzionali provincia di Chieti comune di Casoli la fondazione vittoriale degli italiani e Gabriele D'Annunzio 1915-1918 i partner tecnici Iannieri Edizioni D'Amico Idee per Abitare e Moldadori Point di Casoli in via Selvapiana e poi i nostri media partner Radio Delta 1 e www.casoli.org buonanotte e a domani grazie